E' stato convocato per martedì 26 giugno alle 21 in sessione straordinaria seduta pubblica presso la sala consigliare il consiglio comunale di Pieve di Teco che vedrà l'ingresso ufficiale quale sindaco di Alessandro Alessandri eletto per il terzo mandato consecutivo. I consiglieri, anche loro da poco eletti o rieletti, dovranno esaminare le condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità del sindaco e degli stessi consiglieri comunali. A seguire ci sarà il giuramento di Alessandri, la comunicazione della nomina del vice sindaco della nuova giunta, poi l'indicazione delle linee programmatiche di mandato, la determinazione degli indirizzi generali per la nomina e designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, la nomina delle commissioni comunali e quindi l'assise pievese affronterà la prima pratica operativa relativa a lavori pubblici di sommorgenza per interventi di ripristino della condotta fognaria in frazione Calderara con il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio e i provvedimenti di ripiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti